Buongiorno, questo video per mostrarvi un'operazione che abbiamo appena chiusa, proprio questa mattina, pochi minuti fa, oggi che è mercoledì 30 settembre, un'operazione sul titolo Unipol che abbiamo aperto in direzione short lo scorso 18 settembre sulla rottura ribassista dell'indicatore supertrend sul livello 4,057, il mercato effettivamente è sceso sulla base dell'indicazione del supertrend, ha avuto un'accelerazione ribassista nella stessa giornata, nelle giornate successive è rimasto un po' sotto a tutti gli indicatori, con una sorta di movimento laterale ribassista, tentativi di inversione che non sono dati a buon fine, ma nel compenso gli indicatori continuavano a fare pressione ribassista e proprio oggi 30 settembre abbiamo avuto addirittura un'ulteriore accelerazione ribassista con la rottura addirittura del minimo delle giornate precedenti. Abbiamo ritenuto che il livello di rottura fosse sufficiente, infatti stavamo già guadagnando il 9%, il 9,14% per la precisione e su quota 3,686, quindi pochi minuti fa quando il mercato era addirittura più alto rispetto adesso abbiamo chiuso l'operazione, quindi direi che circa in pochi giorni di operatività abbiamo portato a casa una performance considerevole, il 9,14% con un'operatività short, un'unica operazione sul titolo Unipol. Da questo momento stiamo in attesa di vedere che cosa succederà, l'operatività long, l'eventuale operatività long, perché lo short credo che ormai si sia già completamente compiuto, l'operatività long, io aspetterei la rottura rialzista, la nuova rottura rialzista dell'indicatore supertrend. Grazie per l'attenzione.